3, 2, 1... Escia! Sono qui! Sono qui! Uh, solo un secondo. Riprendo fiato. Sono così nervosa che ora esplodo. Mi cade la bocca. Non mi sfonzo la mondibola. Ieri ho espresso un desiderio a una stella. E la stella ha risposto. Io parlo! Io parlo! Caspita che boccio sua dente! Wow! È un vicolo cieco. Con porta di mogano grezzo! Uh, bella scoperta, Valentino. Un colpo di chiappa. Che cosa nascondi? Uh, niente. E nessuno. Che cosa succede qui? Ok, fanciulle! Con quelle ali non si vola, ma con le vostre voci sì! Che cosa succede qui? Un colpo di chiappa.